ah ah prova prova buonasera ragazzi e ragazze partita la diretta del body balance del martedì sera con Silvia buonasera a tutti aspetto che vi prepariate con un bel tappetino che altro non ci serve qua parallelo al mio piedi nudi, barra, mazzini se proprio avete freddo e voglia di sentirsi bene voglia di allungarsi, di stiracchiarsi di divertirsi, di prepararsi ad una serata e a cipole e anche viene a farmi compagnia mentre aspetto che allestiate il vostro tappetino magico vi bisogna leggere il titolo della lezione come vedete diamo un secondo morso all'anunis 91 che abbiamo iniziato ad assaggiare sabato scorso per chi c'era sabato scorso buonasera chissà faccio per chi c'era sabato abbiamo iniziato a provare la rivista Valtuno che è la nuova, nuovissima e abbiamo provato per scaldamento saluto al sole e twist oggi vi ho portato un altro assaggino un passetto in più c'era godiamo un po' pezzo pezzo visto che i tempi bui questo medioevo del fitness ne stiamo attraversandoci da poche gioie almeno ci godremo un po' per volta la bella musica e i nuovi brani in attesa ovviamente i tempi migliori nei quali possiamo sfumeggiare con i lanci delle release quindi per chi via via si sta aggiungendo al pubblico questa sera brani nuovi della release 91 brani nuovi, musine nuove, molto belle io ho ancora qualche ripassino della release 90 ormai resta poco direi che possiamo cominciare come orario siamo pronti per chi non avesse seguito diretto o indifferita la lezione di sabato avevo dato un paio di dritte un po' di teoria della 91 gli avevo semplicemente detto che il riscaldamento è molto semplice il bello della sua semplicità vale a dire di fatto ripetiamo quattro posizioni che sono le posizioni base dello yoga quindi abbiamo tutto il tempo e l'agio di assumerne, di entrarci e di uscirne in piena consapevolezza per quanto riguarda il saluto al sole è un brano unico anche questo abbastanza fedele diciamo al saluto al sole tradizionale come posizioni salvo una bellissima torsione e ci sta veramente molto bene vi rammento per chi appunto non l'avesse già provata sabato onde non incarcarsi con le gambe destra e sinistra che quando facciamo il lato destro partirà sempre la destra che si vada in avanti che si vada ad allungarla indietro così come dominerà sempre la sinistra sarà sempre la prima a muoversi quando andiamo a fare il lato sinistro basta non vi anticipo niente se no vi tolgo tutto il gusto a questo punto come diceva la mia nonna chi c'è c'è e chi c'è o fare il lume scherzo ovviamente chi c'è c'è e chi non c'è se la farà indifferita quando vuole e quando meglio ritorna posizionato il tappetino orizzontale sì è la nostra meravigliosa barca mettiamoci vai si lo vincia mettiamoci in cima al tappetino e partiamo con il nostro bellissimo iogico riscaldamento con un brano molto ritmico che a me piace parecchio assai ce la farà il nostro eroe a far partire la musica ma sì why not allora mettiamoci in cima al tappetino piedi paralleli sotto le tappe anche paralleli sotto le anche pianta i palloni nel tappetino inspira solleva le braccia verso l'alto unisci i barbi assorbi l'ombelico alza il petto senti allungare la schiena all'espiro letti in avanti vai for one for quindi chiusura abbandonando tutta la parte superiore del corpo fino alla cima della testa poi porta le mani sotto le ginocchia inspira e flat back quindi gambe tese schiena tesa spade frontale alle orecchie allarga con la punta dei piedi e scendi poi fermarti o vogliamo bracci sopra le gambe o scendere di squat questo è il nostro gioco di riscaldamento che si ripete piedi paralleli inspira sali verso l'alto unisci i palmi schiena lunga lunga controllato il centro del corpo inspira ed espira dal naso siamo dello yoga espira chiuditi il forward fold assorbito il pericolo riempi il petto spingilo verso il pavimento e poi rimuovo mani sotto le ginocchia inspira flat back allontana le spalle dalle orecchie le spalle sono all'altezza delle anche provate a salire il vetto piedi che puntano all'esterno il bacino scende siamo in lì di squat se ti va appaggia le mani e solleati sulla punta dei piedi inizia a dare un po' di carica ai muscoli delle gambe piedi paralleli srovano la schiena ispirando se ti va stringi glutei e accenna per i reti perni e letti la schiena indietro poi espira torna il forward fold attenzione perché adesso cambiamo un po' la sequenza dei nostri movimenti all'altezza leggermente i piedi porta le mani fra i piedi e la gamba più lontana dal medico per essere la tua sinistra va dietro le mani sono interne il vetto va verso l'alto spingi il bacino verso il basso cambiamo lato la gamba sinistra torna avanti e va dietro la gamba destra petto alto bacino basso se attivi l'interno coscia riesce a mantenere centrale forte il bacino torniamo avanti con la gamba punto verso l'esterno bacino in basso e dispuota schiena lunga lunga e dritta dritta dal cocci già salito fino al cima della testa premi con le ginocchia e i bocchiti l'altro l'altro e poi per l'ultima volta srotola stringi i glutei e bevi back bent siete pronti per il saluto al sole un brano semplice ma molto bello affonda i talloni ispira spingi verso l'alto espira forward fold guida la destra ragazzi quindi gamba destra dietro petto in alto gamba sinistra raggiungere down dog poi dati la spitta con i talloni aiutati con le ginocchia se hai un plank giungo di gomiti e mezzo cobra torna il down dog e attenzione la gamba destra viene avanti e qui c'è un twist salito con il braccio destro scendi con il braccio destro senti la colonna che si che ruota altro giro ispira braccia verso l'alto espira chiudi di comanda la sinistra gamba sinistra dietro petto alto gamba destra seguire down dog spitta dai talloni volta per arrivare in plank non senti più delle ginocchia se puoi scendi compatto verso il pavimento si potete stretti addon punta i piedi down dog comanda la gamba sinistra che viene avanti e il braccio sinistro sale nel twist scendi torna frontale rientra con la gamba destra e ispirando sali espira altro giro destra sinistra chiuditi e poi slancia la gamba destra dietro petto alto gamba sinistra espira dietro e spitta dai talloni spingi i talloni dietro plank fortissimo in centro mentre scendi e inspira sali alto punta i piedi down dog e di nuovo slancia la gamba destra in avanti e torsione braccio destro verso l'alto usa l'interno coscia per rinforzare la base del twist roll fall inspira sali verso l'alto e espira chiuditi il forward fold gamba sinistra dietro inspira su col petto e espira giù col petto del down dog fortissimi onda per arrivare al plank e forza nel centro del corpo scendi inspira nell'up door e espira nel down dog l'alto sinistra avanti stringi per la coscia braccio sinistro verso l'alto torna giù con il braccio sinistro più lì in for un fall e inspira punto di partenza espira stiamo valorizzando ragazzi le posizioni destra dietro petto su sinistra dietro petto giù e scossa stringi bene l'ombrico e estendi di nuovo down dog stiamo lavorando con la destra destra avanti e piace bellissima torsione giù il braccio la gaffa sinistra dietro e srotoli verso l'alto espira diamo per l'ultimissimo giro con la namba sinistra affonda apri il petto espira e di nuovo ogni singola valente da forte l'addome controlla la discesa e step segreti punta e piedi il nostro ultimo dallo e dietro la gamba sinistra up il braccio spizza bene la colonna vertebrale giù il braccio guarda avanti 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 la gamba destra e lentamente per l'ultima volta braccio verso l'alto stringi i glutei e come abbiamo fatto prima proteggendo la schiena allunga la fletta indietro ok ragazzi sempre insomma molto carino ovvero piedi uniti e ginocchia che premono l'una contro l'altra scendi con il bacino e ruotalo in avanti sale con le braccia posizione della sedia per lo yoga intense pose per il body balance lascia la posizione hai un ampio passo il piede sinistro guarda sinistra il destra 45 gradi pigio sull'esterno del piede affonda centrale solleva le braccia il peso è di penesole in apre tallone up è un optional se vuoi lavorare un po' di più da qua slitta e trasforma il tuo guerriero 2 in extended warrior mantieni il petto ben aperto il braccio da accoggiato può scendere lungo verso il pavimento ok rientra avvicina i piedi solo sul sinistro non curvare non guardare verso il pavimento ma tieni il petto aperto in avanti e immagina di prevere contro una parete con il piede destro ok ripetiamo il guerriero 2 la base è chiara l'esterno dei piedi di lavoro è il peso scende centralmente sulle braccia volvi delle spalle sul tallone se ti va goditi la posizione e da qua di nuovo esperimento di forza e equilibrio solo sul piede sinistro spostati nella luna flottante e se vuoi qualche cosina di più attiva ancora meglio gli addominali e prova ad unire le braccia anche sopra della testa tira e questo maso tira tutto il fianco fino al gluteo destro cambio lato guerriero 2 dal lato opposto quindi il piede destro guarda il destra il piede sinistro circa 45 cali anche squadrate scendi al centro sulle braccia morbide le spalle se ti va solleva il pallone e sempre se ti va lascialo sollevato mentre scorri in estende il warrior basso il paricentro verso l'alto va invece il braccio si porta dietro tutta l'energia ok vado per il forza equilibrio quindi braccia aperte gamba destra forte ma morbida nel ginocchio sguardo fermo piano sinistro scalcia indietro forte col tallone e di nuovo guerriero 2 setta la base squadra e anche su con le braccia e giù con il paricentro attenzione non verso il ginocchio centrali di nuovo speso sulla gamba destra cerca l'equilibrio in questa posizione e se lo trovi e ti senti abbastanza a tuo asio trova a durire le braccia e a stenderle al di sopra del capo ok non abbassare le braccia abbassa la gamba base ampia un largo squat sacro che punta verso il basso da qua sollevi il tallone sinistro e poi ad allungare tutto il fianco destro più alto il tallone più lavora la famiglia abbia lato stessa cosa il tallone destro si alza il fianco sinistro si allunga e tanto per gradire ancora una volta sul lato sul tallone sinistro in alto e il lato destro che si stiracchia ben bene si riempie di aria e di energia mentre per l'ultima volta ok torniamo alla posizione di partenza quella simpatica che fa bruciare le cosce piedi e ginocchia strette cosci e getto punto in avanti schiena un blocco di marmo mani ben verso lato dice finita la canzone non importa resta là perché il brano di equilibrio comincia proprio così congiungi le mani davanti al petto e sali sulle punte quindi se prima c'era la forza adesso c'è la forza e c'è anche l'equilibrio ispira ispira mani verso lato ispira prova a scendere un po' di più con il bacino non scendere con i talloni alto il petto dentro l'obelico ispira verso l'alto ispira scendono di nuovo le mani davanti al petto esiste ancora un po' penassa le spalle con le parti che non collaborano alla posizione lascia il frenone la gamba sinistra morbida è il nostro punto di appoggio di equilibrio è tutto lì cercalo e poi vai ad allacciare con la destra tra pollice e indice la luce del piede destro allungati in avanti e indietro in questa posizione dello scivano alzate cerca il tuo punto in cui le leve le gambe braccia funzionano ok in avanti scendi giù e andiamo a ripetere dall'altro lato la gamba destra è il nostro perno forte il polvedono la sinistra si abbraccia con la mano pollice indice alluce e cerca il tuo scivallanzante puoi decidere di scendere con usare un po' di più la posizione per stare più vicino alla verticale non ha importanza perché ciascuno ha il suo punto di equilibrio e ha la sua giornata più o meno buona rientra piegno uniti ginocchio uniti raccogli con entrambe le mani e portale verso l'alto sempre perfettamente simmetria gruppe stretti petto verso l'alto e giù i talloni di nuovo forza sulla gappa sinistra la destra si stacca e questa volta ci apriamo sul piano orizzontale spincicati contro un'immaginaria pariglie a disegnare una stella con la braccia e con la gappa destra che si alza indovinate un po' dove il punto di forza che sostiene tutto qua stringi l'umelico e resterai in equilibrio rientro rientro cambia gappa e stessa posizione in appoggio sulla gappa destra ancora lo sbordo scegli un punto che non si muova che non ti tradisca stringi bene gli addominali per sostenere tutte le parti del corpo e mantenere la posizione ancora un solo istante siamo al centro attenzione parte la gappa destra verso l'alto con le braccia plessa equilibrio dinamico in movimento spostati con il capo in avanti le braccia anche dentro della gamba ancora una volta in avanti se ci riesci non toccare il pavimento sulla via del ritorno se ne hai bisogno sfiora con la punta del piede per darti un po' di sicurezza anche la gamba sulla sinistra e dietro nella posizione dell'aeroplano quindi le braccia devono essere abbastanza ampie le spalle lontane dalle orecchie ancora una volta in su e ancora una volta tuffati ok a terra entrambi piedi uniti e come abbiamo già fatto raccogliere l'energia e spingila verso l'alto respira completamente ok ragazzacci si torna ad assaggiare un pezzettino di release nuova andiamo a lavorare sugli addominali vi ho preparato addome e dorso dalla 91 quindi schiena a terra gambe e pesce protesta alla montagna un braccio alla volta immagina che affenderti ad una collega ogni volta che sali gli addominali lavorano un po' di più cambiamo un po' di ritmo 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 stai stringendo una per l'altro 1 2 su 2 1 2 andiamo 1 1 2 mani dietro la testa e altre i lati poi farla la gaffe fresse o poi farla la gaffe tese ovviamente la gaffe tese è un po' più intenso come prima 2, fermo 1, 2, fermo abbiamo cambiato il ritmo non esercizio 1, 2, fermo 1, 2, fermo portiamo gli addominali non saccare la scena da terra stop braccio aperto al pavimento e le gambe vanno una volta verso l'alto tavolino e 45 gradi su chiudi spigi avanti chiudi su chiudi spigi e chiudi non saccare mai la parte bassa della schena semisolto anziché a 45 gradi lascia le gambe leggermente più alte quindi diminuisce l'intensità parlando finita invece no giù i palloni e di nuovo spagliamo la montagna quindi sul braccio sull'altro up up stringi 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 ispira dal naso e ispira dalla bocca guardiamo il tempo con il prima 1 2 side 1 2 side 1 2 side e torniamo al secondo esercizio laterale cross roll vuoi provare a stendere le gambe un po' più intenso passiamo di nuovo il ritmo 1 2 side 1 2 side 1 2 side 1 2 sai spingi spingi stop spingi spingi stop e di nuovo cambio di esercizio braccia aperte verso l'alto tavolino e spingi in avanti eccolo così fa avanti chiudi su e tavolino spingi in avanti spingi in avanti verso l'alto prova ad alzare leggermente il bacino da terra ma provare a spingere verso l'alto si strugge più forte gli addominali e se ti fa di fare ancora qualcosa in più ma lo porti in avanti verso l'alto avvicinati con le mani con il busto stiamo verso la prima avviate fede su e spingi su e spingi sta finendo la conzone ma c'è sempre il bravo di dorso rullo in avanti passaggio rapido posizione del lungo quindi le braccia sono a contatto con gli avabracci base base delle ginocchia o con le ginocchia staccate le spalle respingono il pavetino neanche sono all'altezza delle spalle gli addominali devono bruciare se non c'è qualcosa che non va resta lì aiutati in più il respiro è il respiro del filates quindi in e out entrambi scusateli incollando out con la volta ok ruolo sul fianco guarda me braccio verso l'alto fianco con staccato le gambe opzione easy ginocchio è a terra opzione più intensa gamba verso l'alto lentamente torna centrale e di nuovo vai sul laterale è un movimento lento molto controllato la cintura dovrebbe essere in fiamme ok stop cambia l'alto andiamo a lavorare sull'altro piano poi quindi testa dall'altra parte del tappesino partiamo sempre con un over prontato quindi se hai una tavola un asse i talloni spingono indietro l'omperico è collato alla colonna le spalle stando lontane spostati su un fianco solleva se vuoi la se vuoi la cappa se invece ne hai bisogno ricordati l'opzione più semplice è quella di portare il ginocchio a terra e di nuovo torna centrale e sostenendo la cintura ruota ancora una volta lente controllato vai al centro lente controllato torna verso l'alto ok finiti gli over pancia a terra senza schiantaggi glutei stessi braccia aperte piedi a contatto e vuole legge verso l'alto sta lavorando tutta la muscolatura della schiena con questo stringiamo i glutei per poter proteggere soprattutto la parte bassa solleva non solo il tetto senti le spalle e le braccia che si alzano e stop giriamoci con la schiena a terra con i talloni vicinissimi ai glutei perché vogliamo andare forte qui grazie il bacino avviciniamo stizziamo bene le scapole e spingiamo le anche verso l'alto da qui sulla gamba testa stendiamola al soffitto pieghiamola di nuovo e scendiamo e scendiamo altra combattia e tutto questo ragazzi il bacino non deve collassare al pavimento un pochino più veloce giù e scendi flessa pesa flessa scendi stiamo alternando le gambe e mi dicevo che il bacino non deve collassare al pavimento resta alto i talloni devono atterrare sempre vicino ai glutei giù lascia il ponte torna torna di nuovo sulla pancia glutei stretti piedi vicini braccianti e di nuovo su con il busto senti lavorare tutta la schiena tutta la muscolatura stira bene anche verso l'alto le spalle apri il petto su ah rilassiamo la schiena in chair pose le minocchia sono larghe abbastanza da lasciare scendere nel mezzo il petto allunga in avanti siamo entrati nel plano di twist ok lentamente torniamo su torniamoci a sedere e accompagniamo sostenendoci dietro le gambe il busto in terra la testa prima attenzione la gamba più lontana da me si accavalla dovrebbe essere la sinistra sopra la destra le braccia sono aperte lascia scendere le gambe verso il pavimento senza staccare le spalle si senti che è eccessivo per te tenere le gambe a cavallare tieni semplicemente le gambe punte per le notti a contatto con attenzione con la mano sinistra descrivi con mezzo cerchio in area sfiora con il passerello della mano destra lascia la mano sitomica poi lungo il pavimento con un'altra semplice circonferenza torni al punto di partenza di nuovo chiuditi in avassi mano contro mano e poi scivola lungo il pavimento e apri di nuovo le spalle un'altra volta un bellissimo ognito e ripeto per le spalle fermate le sopra le braccia le braccia aperte e se ti basti la gamba che si trova sopra riporto le gambe al centro e crocio quindi la gamba a destra va sulla sinistra e le gambe scendono con la parte oppostra a me e di nuovo movimentare le braccia segna un mezzo cerchio e il pavimento e il pavimento torna prendoci le chiamate spiega con i pastelli e il pezzo cerchio tracciato sul pavimento l'ultima volta apri e resta con le braccia aperte sempre in la gamba che si trova e si trova sopra lentamente riporto le gambe al centro a stare legate l'urla in avanti e portiamoci un po' in gruppo via da qua la gamba più vicina all'interno fa un passo in avanti e ti troverai il lunge con il ginocchio destro e l'interno una volta trovata la tua posizione quindi scendere un po' più giù proteante sull'urla che ruota verso di me il ginocchio e il gomito ma a contrasto le mani in preghiera senti come riesci ad aiutarti con il comito per entrare in torsione puoi provare a puntare il piede e saccare il ginocchio e ancora continuare con un bel ispiro ad aprire le braccia esistono sempre opzioni più leggere come per esempio tenere in appoggio il ginocchio e il braccio ruotiamo sull'altro lato solleva il busto ruota verso di me mano in preghiera sul comito che spinge contro il ginocchio senti va un sacco al ginocchio apri le braccia posto preferisci mantieni il braccio e il ginocchio a terra respira in tutta l'ampiezza del torace e poi ruota rimuovendo avanti avvicina i piedi ricordati in piedi ok ragazzi siamo arrivati quasi alla fine andiamo a lavorare sugli allungamenti frontali gli allungamenti dei femorali quindi siamo in cima al tappetino i piedi sono paralleli ampi quanto le anche affonda bene i talloni nel tappetino inspira solleva il metto verso l'alto espira inizia scelta in avanti facendo partire l'allungamento dalla parte bassa della schiena stiamo semplicemente raggiungendo un forward fold come ne abbiamo già fatti diversi nel corso di questa coreografia ma lo facciamo in questo momento con molta lentezza e prestando attenzione ad ogni singolo tratto della schiena che si allunga e scende senza sollevare il busto porta le mani sopra la schiena uniscile stendile verso l'alto senti che le spalle le seguono e si aprono lentezza risucchia un belico senza spingerlo verso la colonna sul nostro petto poi andiamo obbichisci le ginocchia cammini allungo le cosce con le mani passiamo in piedi la gamba più vicina a me sale e flessa girati verso di me aiutati con la mano destra contro il ginocchio sinistro e senti il braccio sinistro e dietro torsione equilibrio allungamento tutti insieme in una posizione puoi essere ancora un po' efficace affrontandolo con il piede e stendendo la tappa solo se ti va e se non ti mette in difficoltà nell'equilibrio altrimenti mantieni la posizione base giù con la tappa altro lato quindi solleva pressa la tappa a destra guarda la parte in posta a me spingi bene mano contro lo ginocchio e allunga il braccio destro dentro opzione l'opzione l'apo tesa se ti va E come prima affonda i talloni, espira e scendi per un'ultima volta in tutta la lunghezza che hai conquistato. Partiamoci a sedere sul tappetino, cambio presso e appoggio, scendiamo con la schiena. E poi porta la gamba più vicina a me, verso l'alto, afferla dove vuoi, con le mani sotto o sopra il ginocchio. Usa un po' di forza di gravità per lasciarla stendere e avvolgredire, non farle violenza, non tirare. Prova se ti va di stendere la gamba a terra o la gamba a destra. Perchè la gamba si porta da terra, di nuovo entrambi i piedi sul fabbretto. La gamba a destra, questa volta, si annunca con il suo soffitto. La gamba a destra, la gamba a destra, la gamba a destra. La gamba a destra, la gamba a destra, la gamba a destra. Adesso vogliamo allungare l'interno coscia, senza arrivare danno ovviamente i muscoli che hanno lavorato e vogliono solo allungarsi. Rivolta le gambe con vite, messe, afferma l'esterno dei piedi, oppure l'interno o anche semplicemente le cosce nella parte posteriore. Potremmo andare in happy baby pose, quindi stendere completamente la schiena a terra. Allardare bene le arche e le piedi paralleli al soffitto. Assessati nella posizione. E con l'ultima cosa, unisci le piante dei piedi, porta nel palmetto come se tu fossi una farfalla ad ali aperte. Mani sopra la testa, ogni mano afferma il gomito opposto. Fai un bel respiro, immagina di allungarti un po' di più verso l'alto e all'espiro rilascia completamente sia le gambe che le braccia. Chiudi gli occhi. Portai il respiro interamente nella pancia. Ogni inspiro gonfia la pancia come un palloncino. e all'espiro si svuota. Più che ti concentri sull'aria che entra e esce dalla pancia, più che la testa resta libera da tutti i pensieri che hai accumulato durante il giorno. e anche dei pensieri che hai già messo in vuoto per domani, per dopodomani, tutte le preoccupazioni, progetti, le ansie, le aspettative. Lascia da parte, abbassa il volume e pensa soltanto al pubblico che sta andando verso l'alto e poi verso il basso. Ripeti questo esercizio di concentrazione quanto vuoi, quando vuoi e dove vuoi. Ogni volta che avrai voglia di svuotare la testa, pensa a riempire la pancia. Io intanto ho iniziato la mia letta risalita, portandomi prima seduta con una manovra, con un dondolio o lungo il fracco se vuoi. E quando sei arrivato a salere, se hai già aperto gli occhi e mi stai guardando, sappi che la lezione è una termina. Oggi abbiamo fatto una buona metà di nuova e qualche pizzico di vecchio. Sì, sabato ovviamente andremo avanti e arriveremo quasi a finire tutti i qualitari della rivista 91. In ogni caso, io spero che questa lezione ti sia piaciuta, sia stata di suo gradimento. Toma i capelli. E spero anche che il sabato avrei voglia di tornare a fare un'altra lezione. Scherzo, sabato è il giorno dei lavoratori, quindi probabilmente no. Sabato ci riposiamo, ma la settimana prossima invece sì. Tanto al 91 e tanto benessere. Un salutone, sempre a disposizione per qualunque tipo di domanda o richiesta. Buona serata. E basta. Ciao. Bacio ragazzi. Ciao ciao. 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 Grazie a tutti.